Gol, emozioni e spettacolo Alpino Zaccheria. Il Gravina scappa via con la tripletta di un 24enne di San Giovanni Rotondo, Santoro, ma il Foggia lo riprende e impatta la sfida. Un 3-3 giusto fra bicchieri mezzi pieni ed altri mezzi vuoti. I gioiello blu ospiti, al primo affondo, sono già in vantaggio. Al terzo minuto Santoro, con un colpo da biliardo dal vertice dell'aria, mira al palo più lontano, gelando Fumagalli, per il gol dello 0-1. I uomini di casa rispondono con una punizione quasi perfetta di Russo, fuori di un niente, e con un colpo di testa di Salines che non crea grattacapi all'oliva. Ma sono ancora una volta i satanelli a capitolare, al 17esimo, sempre con Santoro, stavolta con la preziosa collaborazione di Chiaradia, prima di perdere anche Viscomi, dopo un colpo fortuito alla testa. Per lui solo un trauma commotivo. Al suo posto, sul rettangolo verde, ci va Anelli, autore del gol che dimezza il divario. L'1-2, al 35esimo, sugli sviluppi di un calcio di punizione di Tortori, porta proprio la sua firma. Ma l'indiscusso protagonista del primo tempo è sempre Santoro, che al 41esimo, con un diagonale, fulmina Fumagalli, realizza il gol del pesantissimo 1-3 e si porta a casa il pallone dopo la tripletta al Foggia, la prima in carriera, per l'attaccante gialloblu. A riposo è 1-3 per il Gravina, col Foggia che colpisce una traversa su palla inattiva e che col rosso divora un'occasione incredibile. Al rientro, Nenni Corda rivoluziona l'11 di casa, inserendo Stajano, Iadareste e Cadili, percurfa Lidis, Russo e Di Masi e raccoglie subito gli effetti sperati. Cittadino, sul calcio di punizione, è perfetto, ma l'Oliva è superlativo e con la mano aperta ricaccia il pallone fuori dalla propria porta, mentre il Gravina resta in 10 per il rosso rimediato da Di Modugno e tira un sospiro di sollievo quando la rovesciata di Gentile, su Torre di Iadaresta, termina a lato. Il gol è però nell'aria e arriva al trentesimo, quando Anelli sfrutta una clamorosa indecisione di l'Oliva e spinge in fondo alla rete il pallone del 2-3, quello che riaccende le speranze rossonere. Il pari, poi, arriva 8 minuti più tardi, dagli 11 metri. Iadaresta va giù in aria, De Angeli concede la massima punizione, Chiara Dia finisce anzitempo sotto la doccia per proteste e Capitan Gentile firma il definitivo 3-3. E pensare che ci sarebbe spazio anche per il colpaccio, per il gol del 4-3, ma l'esultanza dei tifosi di casa resta strozzata in gola. La posizione di Tortoli, infatti, è in fuorigioco. Finisce con un pari 3-3, fra bicchieri mezzi pieni ed altri mezzi vuoti.